Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di OneFootball In questo nuovo video di OneFootball vi dirò tutte le notizie di oggi La debacle dell'Inter ha influito la condizione fisica Calciomercato Pescara, Otto annuncia il colpo, abbiamo preso Pepe Il Napoli protesta, rigore assegnato a Zelischi e poi tolto Di Francesco continua a sorridere, il Sassuolo mi sta sorprendendo Debutto da Urlo per Cassi, doppietto in Atalanta-Lazio Juve missione allegre, chiedire difesa D'Ambrosio striglia a tutti, l'Inter non è più quella del triplete Serve fame Icardi che flop, col Chievo zero tocchi in aria e zero tiri Lazio arrembante a Bergamo, Inzaghi soddisfatto, una grande partita Iguain grasso, lui se la ride, continuate a dirlo, io continuo a far gollo Napoli, Amsic incredulo, arbitro incomprensibile, Iguain che esulta lì Inter, la pista capicola è ancora aperta, nera azzurro a gennaio La Juve supera a Fiorentina, match con appena 5 tiri nello specchio Galiani annuncia l'ultimo colpo Milan, prenderemo il vice Montolivo, Stambuli Fiorentina, guerra fredda fra Sousa e Rossi, a Pepito la panchina sta stretta Inzaghi fa i nomi per l'erede di Candrevala Lazio, Cercio di Rarro A Juventus è l'obbligo di dover vincere ancora, strapotere tecnico evidente A Juventus stringe per quadrato, mentre non molla le piste maturie di Luis Gustavo Sveinsteiger sta per rescindere col Manchester United Spunta la Juventus, Sarri zitto a Pescara Il Napoli puntualizza, ma che silenzio stampa Non più la Totelli, giorni fino al calciomercato hanno una nuova sede Altro che Iguain, Cavani e cuore Napoli La Juventus io non l'avrei mai fatto Saputo apre a Balotelli Bologna e Volverhamton si contendono Super Mario Alla Juventus c'è un muso lungo Chiuso da Dani Alves, Lickstainer è in uscita Calciomercato Inter Erkin può già andare via Decideremo entro 24 ore Gullit torna nell'Olanda Fa parte dello staff del CT Blind Calciomercato Genoa Preziosi fa il punto Edenilson arriva, serve un difensore La Lazio aspetta Per ora niente azioni legali contro che età La gente sbotta Manchester United Retroscena Mourinho Potevo tornare in Italia Che è Asensio Nuovo asso del Real Madrid Presente e futuro Calciomercato Empoli Pressing per Diamanti Saponara verso l'addio Sollievo Torino Scongiurate ulteriori problemi per gli Aic Calciomercato Milan Maxi offerta per Romagnoli No rosso nero Nessun caso a Diapong Sassuolo poteva schierarlo contro il Palermo Calciomercato Juventus Noas Weinsteiger Avanti tutta per Matuidi Fiorentina Gonzalo Rodriguez K.O. Distrazione muscolare all'adduttore L'Inter cambia direzione Quattro italiani in campo Non accadeva dal 2013 Strootman si prende la Roma Non sono al top Ma sono pronto per il porto Spalletti carico La Roma è pronta Zero calcoli Dobbiamo essere padroni Calciomercato Napoli Colpo a centrocampo Di avere le visite mediche Calciomercato Fiorentina Continua la trattativa per Costillo Da erede di Dybala Alla Liga Pro La parabola discendente di Matius Cassini Calciomercato Pescara Altro colpo in attacco Ufficiale d'arrivo di Baebec Bertolacci Che sfortuna Lesione muscolare Rischia un mese di stop Arrivano i convocati del Brasile Per le gare di settembre Tre dalla Serie A Inter pronti via Ed è crisi La Juve è già Iguain Napoli senza sorriso Napoli subito allarme Subito un difensore Gabbiadini Rebus da risolvere Lazio tiene banco il caso che età Parla alla gente Comportamento spiegabile del club Serie A Torino Belotti gallo dal cuore d'oro Mia madre non lavora più E questo è il mio gol più bello Calciomercato la Juve sfida Milano Premi su Brozovic Blocca Bentancur Inter Ti serve il regista Mendel e Condogbia non vanno E Giaomario Napoli Il bilancio dell'esordio Super Mertens E tanti cross Difesa da registrare Milan Montella diverte Baccasi salta con Suso Neanche un'altra mentalità Spalletti Roma Facciamo i padroni Il nostro destino Lo decidiamo noi Champions Spalletti La Roma aspetta questa partita Da otto mesi Roma Strottman Punta il porto Sappiamo cosa fare L'apporto dei nostri tifosi sarà fondamentale Che tal la Lazio replica a calenda Referti medici parlano chiaro Brasile il CT convoca anche Alisson e Dani Alves Champions League Roma a 1,70 con il porto Serie A Cavani contro Iguain Io non sarei mandato alla Juventus Calciomercato Juventus Quadrado Siamo al countdown Calciomercato all'Inghilterra Juventus Siamo al secondo me Buon problema di Lew Bear per zaza sorpresa nella seduta pomeridiana dell'inter ad appiano da piano c'è alvaro recoba ok queste erano le notizie di oggi di tutte le notizie di oggi quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi lasciate un like ci vediamo ciao a tutti